Oggi Pioca Elettrico non poteva mancare di un altro appuntamento, uno tra i conclusivi di questa estate pontina, cioè la festa della Madonna dei Campi a Borgo Carso. Questa è una delle giornate conclusive, penso che sia la giornata conclusiva. E Borgo Carso, come tutti i borghi limitrofi all'Atena, porta il suo nome da una battaglia, il luogo di una delle battaglie cruciali della Prima Guerra Mondiale. Un borgo molto carino, ricco di eventi, con gente molto simpatica. E allora andiamo alla scoperta della festa della Madonna dei Campi. Grazie.